Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi, Ghost Dragon Breakpoint, andiamo un po' a sgominare qualcosa. È un gameplay abbastanza così, diciamo così, sportivo, per non dire cazzeggio. E sto andando in giro a esplorare e uccidere un po' di avversari. E diciamo che mi sto divertendo tanto andando in giro, così, alla cieca, senza un obiettivo, facendo missioni secondarie. Vediamo un po' cosa scopriamo qui. Forse non c'è nessuno, si può aprire? No. Degli stivaletti che sono... sono uguali. Queste velocità di movimento e questi ci danno furtività. Per adesso lasciamo stare lì. Prendiamoci un'auto e andiamo in quel punto. Guidiamo quest'auto strana. Non si vede più niente. Ok. Ma ci sono delle persone lì. Non le avevo neanche viste. Perché avevo visto questi qua. Allora, in teoria questi oggetti qua si possono raccogliere per poi fare... delle specie di pozioni o qualsiasi altra cosa che ci serve per diventare... per aumentare delle skill, delle statistiche per poco tempo. Ah, attenzione. Ok, questi qua invece col punto... con la I ci si può parlare. Ciao, Cristo. Vediamo un po' cosa vogliamo. Startup Blue Corp. Mmm. Non sarebbe male invece del bivacco. Mi serve aiuto per trovare questo luogo. Sai dov'è? So senza dubbio dove devi andare a vedere. Grazie. E apri cura di te. E prendiamo anche la moto. Madonna, mi è inguidabile. Ok. Ah, ma io devo tornare... Ok, qua ci sono stato... Facciamo un po' di... Si può impennare se non mi ricordo male. Tipo così. Pre, 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 pre. Ah, ma no, ma... Scusate, ho sbagliato segnale. Allora. Andiamo alla Blue Corp. Ma forse già ci sono stato. Andiamo un attimo. Pre, 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 pre. Ops. Sono fatto malissimo. E mi sa che ho distrutto anche la motocicletta. Sì, via. Ok. No, non c'è bisogno di curarsi. Perfetto. Andiamo lì. È un chilometro e due a piedi, però è un po' tanto. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Un veicolo. Ce lo dobbiamo fare a piedi, mi sa. Noi raccogliamo banane nel frattempo. Ci sono dei nemici qua. Andiamo un po'. Se vuoi sarà una pattuglia. Eccoli là. Attenzione, il contatto! Ok. C'è qualcosa che mi gira sopra la testa? No. Sento un'elicottero io, eh. Vediamo se nuota. Nuota? Vediamo. No? Sì? Boh. Sì. Ci siamo lavati perché puzzavamo. E adesso siamo arrivati qua. In teoria questo qua dovrebbe essere il punto. Vediamo un po'. Nemico. 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 Livello 27. Ce n'è un bel po', eh. E naturalmente col drone possiamo entrare anche negli edifici. Un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ce n'è un bel po'. Ci c'è una cassa. Ok. Forse li abbiamo segnati tutti. No. No, quello è un civile. Questo è un civile. Qua dentro. Ok. Noi siamo lì. Perfetto. Iniziamo. Vediamo un po'. Se riusciamo a trovare un punto alto per fare un po' di cecchinaggio. Vediamo se riusciamo a entrare. Da qua. No, perché ci manca il coso per tagliare, quindi... Però c'è un tubo lì. Allora. Proviamo a fare questa cosa qua. Questa tecnica di camminare sopra il tubo e vediamo se riusciamo a entrare. Non stare attenti lì, su quel molo, perché ce ne sono un po'. Bravo, non cadere. Bravo. Ok. Vai che ce la facciamo, ce la facciamo. Però... Hanno pensato bene di chiudere. Madonna. Ok. È stato inutile. L'hanno chiuso. Ubisoft ci aveva già pensato che qualcuno l'avrebbe fatto. Quindi hanno chiuso tutto. Bravo. Posso aprire la valvola? No. Quindi... È per forza. Va bene. Ci hanno fregato. Se no dovremmo andare al molo. Eh già. Vediamo un po'. Allora. Quello è il treno però. C'è qualche cecchino. Sì, eccolo lì. Eppure si calda. Non lo so. Non so che domani mi darò mai. Con questi esclusi pazzi che attaccano le strutture dei droni, vi dico che ci ho pensato anche io. La Sentinella non riesce a tenere i dati. Da quando quegli idioti possono comparire ovunque sull'isola? La Sentine non ci sta mentendo. Sono tutti strutturi. Sto pensando di... Di non farmi vedere. Perché mi becca? C'è un altro... C'è qualcuno. Uno. Qua. Ok. Saliamo qua sopra. E divertiamoci un po'. Mi ammazzerò tutti quanti. È il solo modo di ottenere un po' di pace. Allora. Prima di tutto, lui. Poi. Che altro abbiamo? Mi piacerebbe. Vediamo se riusciamo a colpirli da lontano, eh. Probiamo che si muovono. Però vediamo se riusciamo, eh. Ok. Non riusciamo a vederli. Allora. Abbiamo questi due qui. Quello lì... Potremmo farlo fuori. Se riesce a girare l'angolo... Non dovrebbero vederlo. Aia. Ma... No, no, no. Ok. Non riesco a portare più in basso là. Ok. Ok, sono in allerta. Però non mi hanno ancora scoperto. Perfetto. Adesso si mettono in allerta. Vediamo se riusciamo a ammazzare quei due lì. No. 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 Non ce l'ho fatta. Ok. Sono tutti sotto di me, però non mi hanno ancora visto. che stanno salendo, eh. In teoria no. Ok. Dai, questo era preso. che paura che mi vengono da... che salgano dalla scala. Ah, attenzione. Questo non l'avevo visto. Oh, grande distanza, l'ho completato. Mi ricordo... Sapevo che c'era... un... uccide un nemico da distanza. Elevate. Allora, cambiamo. Vediamo un po'. C'è qua sotto? Dovrebbero essere qua sotto l'oro. Ok. Vediamo un po' dove sono. Eccolo qua. Ok, adesso tutti gli altri. Dici che arrivano? Ah, però ce n'è uno che si sta muovendo. Eccolo lì. Questo mi stava beccando. Ok. Ecco, se così gli butterei una bomba, li farei fuori tutte e due, però non so dove sono. Il problema è che poi cado. Allora, vediamo un attimo. Ah, attenzione. Questo... Dove sta andando? Che cavolo stava facendo? Avete visto? Stava salendo in aria. Non so perché e come, ma... Cioè... Eh? Cosa? Cioè, è del tutto casuale sta cosa. Sveglia, stronzi. Ci sono degli ostili. Eh, sì. Rissevuto. Se vedete gli ostili, uccidetevi. Io so che cado. Per prendere quello lì. No. Bellissimo però che posso fare così. Aspetta, aspetta. Sta cosa è bellissima. Diciamo che ripaga il fattore che quella persona lì stava arrampicando in quel modo. Dai, dai. Non so che adesso ti avvicini dove sei. Eccoti qua. Vedo l'ombra. E se passa. Ok. Scendiamo. Raccogliamo tutto quello che ci dobbiamo raccogliere. Anche la pianta. Avrei fatto una bella strage. Però ancora ce n'è due. Ah, mi ha visto. Mannaggia. Vabbè. Non del tutto mi ha visto. Ok. Dovrebbe essere pulita la zona. No, ce n'è ancora uno là sotto. Più di uno. Vediamo un po', eh. Perché me. Oh. Ehi, state allerta. Sono qui. Datemi qualcosa a cui sparare. Contatto nemico. Siamo a contatto. Andiamo a contattere le spalle. No. Eccoli qua. Guarda, guarda. Guarda che sono belli, guarda. Uno. Due. Questo l'avevo visto, questo qua. C'è il fucile a pombo, questo qua. Non l'avevo visto. Ah. Ma cos'è? No. Meno male che sono un medico e mi posso autocurare col drone. C'è un lanciarazzi. È ora di guadagnarci la paga. Non l'avevo assolutamente notato. Infatti dicevo, perché è diventato rosso? Mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo, mi muovo. Ma quanti ce n'è? C'è qualcuno che spara e lanciarazzi. Forse da lui? Forse si E allora No? Dov'è? Dov'è la cesta? Ah ok dentro Oh attenzione È blu Quindi è abbastanza raro No non si rompe il vetro Non si può passare Qui non c'è più niente Aspetta Ah C'è ancora qualcosa Però Sicuramente sarà No no eccola qua C'è la porta Ok Quindi ci fa raccogliere questo 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 E questa è chiusa Questa non ho ancora capito Come si aprono C'è il locket Ok Non so come si aprono Queste porte qua Esatto Attenzione Lì c'è una cosa Non ne ho la più palida idea Di come si apre No Boh Forse ci vuole Lo scassinatore Non ne ho la più palida idea Ok La macchinina si può prendere No Ma è un taxi? No Andiamo al molo Vedere se c'è qualcosa Sembrerebbe di no Andiamo a interrogare il tipo Ma ci sono Dei macchinari Fichi E prendiamo quella cesta Ok Raccolta Qua dentro No era qua Ah Sì sì Qua c'è il cecchino Aspetta Vediamo cosa ci dà il cecchino Magari ci dà un bel fucile Anche se Il mio è un po' meglio Solo munizioni Però Ah è il tipo Ok Scendiamo E Parliamo col tipo No devo parlare con lei I miei saluti Allora Hs2 No il bivacco Devo sapere come trovare questo posto Mi aiuti Posso dirti con sicurezza dove devi cercare Grazie del supporto Ci siamo aggiornati anche per il bivacco E poi l'altro da interrogare è quello lì Facciamo il giro giro tondo Casca il mondo Ah c'è ancora un'altra cesta Ah non è Ah ok È un'indagine Per prendere questa cappa E poi abbiamo un'altra cesta Qua Non vorrebbe essere Se non è Eccola qua Pistoletta Ah C'è un'altra cesta Lì È proprio sopra Ok Saliamo Ci fa salire da qua No Attenzione Qua c'è ancora qualcuno No Non è qualcuno Ah Ecco cos'era È quello che dovremmo manomettere Il lancio a granate Eccolo qua Eccolo qua E qua ci sono altre persone Ce la facciamo Sì Dai Ah Proprio lì dentro Vediamo come si entra Peccato che Peccato che quando corri Devi fare l'emulazione Della corsa E quindi la camera si muove E trema tutta C'è una cosa che è una cosa C'è una cosa che onestamente Non mi piace tanto Però vabbè Allora Allora Quella lì Non so come si apre Però in teoria Ci siamo presi tutto Ma c'è anche quella gru No ma io ci voglio salire Là sopra Se si può C'è Arrivare là sopra Essere fico Vediamo se si può Avete fatto questa cosa No Non l'hanno fatta Ok Vabbè Abbiamo conquistato Un elicottero Già Allora Vediamo un po' Cosa abbiamo preso Allora Quindi tutti da cecchino Noi abbiamo questo E il più bello È questo Perfetto Quindi Questo lo smontiamo Ci prendiamo alle parti Smontiamo E smontiamo Pistola Abbiamo questa Gli altri le smontiamo Poi Allora Ci abbiamo due da 36 Questo fa danni a esplosivi Energia Resistenza Gli infortuni Beh Direi che Ci mettiamo questo Questo Lo smontiamo E questo pure E questo pure Poi Ah queste sono le doppie scarpe Ci teniamo l'altra È come punto Vediamo un po' Cosa abbiamo No Questo Ok Quindi in teoria No Ancora no Sblocca Slot Tratto Dall'albero abilità Eh l'avevo sbloccato No No Non era quella Allora Ah Eccolo qua Allora Allora dovrebbe essere La scan Allora dovrebbe essere la scan Della retina Allora Grazie.